Buongiorno a tutti, sono Emanuele Pollastri, sono l'amministratore di Vumi Networks SRL, un'azienda di Milano che è specializzata nello sviluppo di sistemi software per il digital signage. In particolare noi sviluppiamo un sistema di content management orientato alle tecnologie web che sfrutta i media player dell'azienda svizzera Spinetics come hardware presso i monitor. Quest'anno siamo ad ISE per la prima volta come Vumi Networks per presentare le nostre piattaforme di content management che sono sostanzialmente due differenti versioni di software, una dedicata alla comunicazione corporate che si chiama appunto Vumi for Corporate e un'altra che si chiama Vumi for Retail ed è dedicata agli scenari retail. Quindi andiamo da applicazioni in grandi edifici, sale e riunioni, musei, sale e congressi fino a catene di negozi, ristoranti, bar, applicazioni quindi nelle quali c'è un'evidente esigenza commerciale. Alla mia sinistra vedete la nostra area demo del nostro stand nella quale sono presenti due postazioni, una che presenta il software Vumi for Retail ed un'altra che presenta il software Vumi for Corporate. Se guardiamo verso la sinistra, la novità di quest'anno sono gli scenari che vedete girare nel monitor di comunicazione, di messaggistica in diretta piuttosto che invece di applicazioni che prendono i dati in tempo reale dai social network, in particolare Twitter, Flickr, Facebook e tutte le altre applicazioni che oramai vengono gestite su internet. Sulla destra invece vedete degli scenari più legati al mondo corporate, quindi legati a degli scenari di sale e riunioni nelle quali il nostro sistema automatizza completamente il processo di visualizzazione dei dati dei meeting. L'automatismo è in grado sia di prendere dati dal mondo di Microsoft come Outlook, Microsoft Server Exchange piuttosto che da Google Calendar o piuttosto dall'applicazione residente nel nostro sistema. La particolarità è che nel momento in cui viene configurato la soluzione tutto si svolge in automatico. Addirittura anche le frecce direzionali vengono direzionate in automatico dal sistema in tempo reale e quindi possono cambiare a seconda del messaggio che visualizzano. Ovviamente le nostre soluzioni come sempre si appoggiano sull'hardware Spinetics che ha come caratteristiche una notevole robustezza e notevole flessibilità di utilizzo in quanto anche esso è basato su tecnologie web. Nel nostro grande video wall per esempio presentiamo uno scenario di tre video sincronizzati che sfruttano questa caratteristica del nostro dispositivo che permette di utilizzare la rete internet per sincronizzare l'esecuzione dei media player. Questo viene utilizzato specialmente per applicazioni di comunicazione con grande effetto. Il dispositivo Spinetics permette di scalare da uno a un infinito numero di monitor tra di loro sincronizzati. Il dispositivo Spinetics permette di scalare da uno a un infinito numero di monitor